Signore, laudato sì, oh mi Signore, laudato sì, oh mi Signore, laudato sì, oh mi Signore, per tutte le tue creature, per il sole e la luna, per l'estere e il vento, e per l'acqua e per il fuoco, laudato sì, oh mi Signore, 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 laudato sì. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Preghiamo. Gloria a te, oh Padre, nella prima alba del mondo hai fatto risuonare la tua voce all'orecchio dell'uomo e lo hai invitato alla comunione con la vita divina, svelandogli i tuoi misteri e indicandogli le vie dal salveggio. A Mosè tuo servo è ordinato di chiamare un'accorda, con trope d'argento il popolo eletto e ora non disdegni che nella tua chiesa risuonino i sacri bronzi che invitino i fedeli alla preghiera. Benedici, questo campanile appena restaurato e a te dedicato. Fa che i membri della tua famiglia, a dirmi il richiamo, rivolgono a te il loro cuore. E partecipando alle gioie e ai lutti dei fratelli, si raccolgono nella tua casa per sentire messa la presenza di Cristo, ascoltare la tua parola e aprirsi a te con fiducia figliare nella grazia del tuo spirito. Per Cristo, nostro Signore. Mentre risuonano solenemente le campane, noi solenemente entriamo in chiesa. Iniziamo la sala di Cristo. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti